Quattro Pronto? Pronto. Sì? Buonasera. Buonasera. Cosa volete? Devo fare le salute. Sì, felicità per voi. E allora, e allora, signore, io vi saluto a tutti quanti. Arrivederci. E adattare la bocca e mamma vostra. Buona notte. All'anno i miei cinquattici, allora non hanno capito che io non ci vengo di tutto. Ma non ti ha fanno quello veramente, è per sempre. Sì, ma io voglio dire una cosa, no? Ecco, perché voi... Ma noi non c'è un altro quadro che a me mi fa male la casa. No, signore, io non scrivo, io ci ragiono sulle cose. No, non... No, non... No, abbiamo fatto la trasmissione per il passato, abbiamo detto che non devono dire le parole. Sì. L'abbiamo fatto, anche un'altra volta abbiamo detto questo. E che sta gente si mette a fare sempre si scepitare e si sfusate per chi non darà. Se voi qui dici di vicino a me, non posso fare, io l'hai già fatto? Perché non li richiamare? Ma io voglio dire sapere a voi... Giustamente, ma che ti dà... E' un imbacilla di questo, no? Sì. E' un imbacilla di questo, no? E' un imbacilla di questo, no? Sì. E' un imbacilla di questo, no? E' un imbacilla di questo, no? Dicendo, se voi lo sapessi di questa casa, se no sono persone che esce fino all'altro che passi Che poi... Voglio portarsi il capitolo di tutto... Scusate, sì... Perché perché non la prendi... Ma noi non mi fanno cosa, non mi fanno più la trasmissione. Noi non la faciamo più... E quindi noi non fanno... Io mi fanno cuccare la casa là lui mi viene tra la casa là, e lui non mi fanno che non lo fanno male come se dice andava. Ehi, io me ci fanno... Però noi non c'è la mia metterà. E' perché arrivato a un certo momento, noi non si può fare, noi facciamo una trasmissione, ma tenivamo la mano... no ma poi perchè ti vuoi dire ma ci senti il mio dottor caso quando andava passato lui è luco che aveva una telefonata di cristiani che non aveva una famiglia un telefono a questi quattro due pure noi ci siamo impegnati ma invece di fare i figliacchi per mettere la rete a un telefono e gli dici tanti stronzati e tanti cose ma perchè non venite qui a Leonardo Bianca numero 4 e ci venite a dicere il capo a basciarla di qua noi veramente non mettiamo la capo in due cesti o meglio i ucchi e io ci pisci anche sopra ma ogni madre non poteva lo direi ma perchè il telefono a posto è nata lo chiamano sempre di sconacchiato ma lo faccio prima il telefono a posto e lo faccio lì pronta e fatta la panorafia a che ragiavo che mamma eeeh ma cussino a una fata facimmo la cussina gli ammandanti a cussina quando mi cino te ne ci lo metti pronta grazie 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 grazie